Buonasera a tutti e bentornati al TG di AC Milan Inside. Oggi le news di mercato sono veramente tantissime. Parliamo dell'argomento Chakwemeka. Ebbene sì, il Milan ha avviato i collovi con il Chelsea per quanto riguarda il giocatore per un prestito con diritto di riscatto. Nonostante i suoi problemi fisici però il Milan comunque sembra interessato e il Chelsea sta aspettando un'offerta tra 15 e 20 milioni. Passiamo all'argomento Fofanà. Se mai il giocatore dovesse arrivare in maglia rosso-nera logicamente verranno fatte delle valutazioni per quanto riguarda gli attuali giocatori del Milan in tale reparto. Due di questi giocatori sarebbero Ben Nasser e Adli. Ben Nasser in particolare potrebbe perdere il proprio posto. Nonostante ciò il giocatore prospetta tra qualche anno di andare a giocare in Arabia. Il problema è che magari questo cambiamento potrebbe comunque sia dargli la spinta per anticipare il suo addio al Milan e quindi l'approdo in Arabia. Non è variata assolutamente la questione Rabiot. Le cifre restano comunque alte ma il Milan resta vigile. Parliamo della questione Milan futuro. L'inizio del campionato dove militerà ovviamente il Milan futuro inizierà il 25 di agosto e la formazione del mister Bonera sarà protagonista nel girone B. Sembra ufficiale e Daniel Maldini è un passo dal Monza a titolo definitivo. Il suo contratto durerà fino al 2028 e il Milan avrà una percentuale importante su una sua futura rivendita. Concludiamo le notizie di oggi con la questione Ciao New Hustle. Il Milan apre la cessione ma sono necessari dai 30 milioni in su per lasciar andar via il difensore. Queste sono tutte le notizie più importanti di giornata e io come al solito vi invito ad andare a vedere su tutti i nostri social gli articoli per intero e continuare a seguirci per tutte le novità.